L'auto che vi presentiamo oggi è una Renault Captur, 1.5 diesel, chilometri zero, immatricolata a ottobre 2017. Allestimento Intense, colore avorio con tetto nero e vetri privacy. Cerchi in lega da 17. Accessori, clima automatico, cambio manuale, sensori di parcheggio e retrocamera posteriore. L'auto è esposta nella nostra sede in via della Maglianella numero 35. Potete contattarci anche al 06 32 693 oppure sul nostro sito www.concessionariafiori.it oppure venirci a trovare direttamente in sede.